Le ideologie Socialismo, cattolicesimo sociale, liberalismo, nuove destre Nel corso della seconda metà dell'Ottocento furono elaborate in Europa numerose ideologie destinate ad avere un notevole seguito nel secolo successivo in particolare il socialismo e il cattolicesimo sociale politico Si rinnovarono molto anche i partiti tradizionalmente rappresentanti della borghesia mentre sostrano quasi dal nulla nuove ideologie antidemocratiche di estrema destra spesso a carattere antisemita Nel 1864 un insieme di sindacati e associazione peraie fondò a Londra l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, detta anche la prima internazionale Il principale ispiratore fu il tedesco Carlo Marx I suoi obiettivi erano l'emancipazione economica della classe operaia attraverso la lotta di classe la formazione di partiti socialisti e la conquista del potere in modo da poter controllare anche i mezzi di produzione Per Marx la storia di ogni società esistita fino a quel momento è la storia delle lotte di classe Oppressi e oppressori sono sempre esistiti ma in modalità differenti sulla base del diverso grado di sviluppo delle forze produttive Le classi dominanti sono state così di volta in volta i proprietari terrieri schiavisti nel tempo antico i feudatari nel medioevo ed ora nella società capitalistica la borghesia La borghesia nell'ottica di Marx è una classe rivoluzionaria in quanto ha scosso e scompaginato il vecchio sistema feudale e ha introdotto l'economia di mercato quasi in ogni paese del mondo Essa infatti non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti e i rapporti di produzione e quindi i rapporti sociali Secondo Marx avverrà un progressivo accentramento della produzione Si costituiranno due sole classi sociali la borghesia e il proletariato con la scomparsa dei ceti intermedi piccoli industriali, commercianti, artigiani e contadini Il proletariato dovrà condurre la lotta di classe per giungere alla scomparsa della borghesia e alla fine della dominazione dell'uomo sull'uomo Per questo sarà necessaria la fine della proprietà privata una rivoluzione e una fase di dittatura del proletariato per giungere infine ad una società comunista Dopo pochi anni la prima internazionale fallì soprattutto in seguito alla repressione della comune di Parigi Oltre a questo c'erano stati dei dissidi dentro l'associazione in primo luogo fra Marx e i mazziniani che rifiutavano il concetto di lotta di classe a favore di una collaborazione fra le classi Il secondo conflitto sorse fra gli anarchici guidati da Bakunin e Marx Bakunin riteneva che il nemico principale fosse lo Stato e non la classe borghese e rifiutava ogni forma di organizzazione anche quella di un partito politico Bakunin sosteneva che la lotta doveva essere condotta da piccoli gruppi contro ogni forma di autorità con metodi anche terroristici Nonostante il fallimento dell'internazionale nel 1875 sorse il primo partito socialista moderno quello tedesco socialdemocratico La sua caratteristica principale era di avere una solida organizzazione In ogni comune c'era una sezione queste erano riunite in federazione a livello di estetuale e così via fino agli organi nazionali Attorno al partito inoltre esossano una miriade di associazioni collaterali a carattere ricreativo e culturale ma anche sindacale Questo modello di partito verrà imitato da tutti gli altri partiti socialisti e non nel corso del Novecento In Francia il socialismo dovete subire le conseguenze della dura repressione della comune Dopo un decennio però sossero vari partiti rappresentanti delle varie anime del proletariato francese Solo all'inizio del Novecento essi si unirono nella Sfio sotto la guida di un energico ed eloquente leader Jean Jure destinato ad essere assassinato poco prima della guerra mondiale da un nazionalista fanatico I socialisti inglesi rifiutarono fin dall'inizio la lotta di classe di tipo marxista e per molto tempo si limitarono all'azione sindacale di difesa dei soli interessi economici della classe operaia All'inizio del Novecento però questa politica non era più sufficiente per ottenere protezioni previdenziali di tipo continentale essi costituirono il partito laborista rappresentante delle trade unions a livello parlamentare In Italia il partito socialista nacque nel 1892 su iniziativa di ex anarchici ed ex radicali dovete scontrarsi con l'intrasigenza del potere politico che tentò più volte di scioglierlo Nel partito a inizio del Novecento si formarono due correnti quella riformista o minimalista e quella massimalista che predicava la rivoluzione Nell'impero russo i socialisti non poterono mai costituire dei partiti legali e dovessero restare sempre in clandestinità braccati dalla terribile polizia politica degli zar la Ocrana Sos gruppi filo-anarchici come quello dei populisti e dei nichilisti che praticavano metodi terroristici uccidendo uno zar e numerosi ministri questi gruppi confluirono nel partito socialista rivoluzionario molto forte nelle campagne russe successivamente nacque anche un partito di tipo marxista quello social-democratico che però si suddivise in un gruppo detto bolshevico e un altro detto menshevico la differenza principale tra i due gruppi era che i menshevichi guidati da Martov credevano che la Russia fosse troppo arretrata per una rivoluzione e fosse pertanto necessario aiutare la fragile borghesia russa ad abbattere la nobiltà ancora al potere il partito doveva pertanto prepararsi ad una lotta di tipo elettorale secondo Lenin il capo dei bolshevichi la Russia doveva saltare la fase borghese e passare direttamente dal feudalesimo al socialismo per questo occorreva un partito concepito come una avanguardia un partito di rivoluzionari quasi dei professionisti pronti a guidare le masse Lenin però escludeva ogni forma di terrorismo negli Stati Uniti il socialismo e il sindacalismo non attacchirono mai con successo ad essi si opponeva una dura resistenza da parte dei magistrati e delle istituzioni che posero vincoli legali estremamente duri anche le imprese si accordavano fra loro per licenziare gli operai troppo propensi a lottare per i propri diritti gli stessi operai erano estremamente individualisti o frammentati sulla base delle nazionalità di provenienza SOS è però un sindacato ancora oggi esistente l'American Federation of Labor con funzioni esclusivamente economiche alla fine del secolo un giornalista socialista Bernstein iniziò a rivedere criticamente le tesi di Marx a suo giudizio la concentrazione delle imprese e la proletarizzazione non stavano avvenendo pertanto propose di abbandonare gli ideali rivoluzionari e di limitarsi a chiedere riforme a favore dei lavoratori le sue proposte provocarono la frattura di molti dei partiti che nel 1889 avevano ricostituito l'associazione internazionale essi si divisero in rivoluzionari e riformisti l'internazionale discusse anche di che cosa si dovesse fare in caso di guerra la risposta fu guerra alla guerra ma al lato pratico si rivelò di difficile attuazione nel 1870 con papa Pio IX la chiesa si era chiusa al mondo moderno rifiutando non solo il socialismo ma anche la democrazia e il liberalismo tutte queste tesi teorie vennero giudicate degli errori nel documento detto il sillabo al contrario si stabilì il dogma dell'infallibilità del pontefice con il procedere degli anni però divenne chiaro che la chiesa rifiutando ogni aspetto del mondo moderno sarebbe diventata irrilevante era necessario iniziare a operare nella società con associazioni sindacati e poi anche partiti il papa che fece di più fu leone XIII che con l'enciclica rerum novarum spinse la chiesa e i fedeli ad una maggiore azione nel mondo pur rifiutando ogni cedimento sul piano della dottrina in Italia però la partecipazione alla vita politica continuò ad essere vietata dato che i papi non riconoscevano la legalità dell'abbattimento dello stato pontificio la borghesia aveva costituito da tempo vari partiti che però non erano strutturati come la socialdemocrazia tedesca si trattava di partiti che operavano essenzialmente in parlamento si dotavano di un'organizzazione solo durante le elezioni e si appoggiavano prevalentemente su persone influenti nei singoli comuni i cosiddetti notabili con la nascita dei partiti a base socialista o confessionale entrarono in crisi molti elettori dei partiti borghesi tradizionali confluirono nei nuovi partiti cattolici e qualcuno anche in quelli socialisti parecchi come vedremo preferirono le nuove formazioni dichiaratamente antidemocratiche la democrazia venne sempre più considerata un sistema che portava al potere persone non competenti essa doveva essere abolita a favore di metodi che assicurassero la gestione dello stato a chi avesse le opportune competenze tecniche questi nuovi partiti di destra utilizzavano molte dottrine ideologiche che andavano dal tradizionalismo cattolico e monarchico all'antisemitismo unito a forme di anticapitalismo essi però erano unificati da un acceso patriottismo i movimenti nazionalisti ritenevano di avere il dovere di unire in un solo stato tutte le componenti del popolo che per vari motivi si fossero trovate trovate al di fuori dei confini sono solo così organizzazioni come quella pan germanica e quella pan slavista un'idea condivisa era il cosiddetto organicismo cioè la concezione che il popolo e la nazione fossero entità unitarie e quasi degli organismi viventi in base a questa idea non era ammissibile che coesistessero idee differenti o classi differenti addirittura in lotta fra loro come sostenevano i socialisti un altro elemento unificante era l'antisemitismo già presente in Europa con motivazioni religiose esso si estese man mano che gli israeliti che gli israeliti ottenevano la completa equiparazione legale l'antisemitismo assunse una colorettura addirittura anticapitalistica dato che gli ebrei venivano reputati irresponsabili degli sconvolgimenti provocati dalla rivoluzione industriale i socialisti lottarono contro queste concezioni che definirono il socialismo degli imbecilli grazie a tutti